e benvenuti ragazzi sono cd7 e oggi vi do il benvenuto al prossimo episodio di fortnite una volta non so quando vedrete i video di fortnite penso di martin no martin ragazzi questa settimana ho i giorni confusi beh ok un giorno sempre alle 14 e alle 18 e o alle 18 non so se ok quando i video alle 14 e o alle 18 perché non si è ovvio per farle 14 e tu e uno per le 14 e uno per le 18 comunque sia un video faccio solo quello per le 14 perché ai 18 sono video extra però non posso tenere la memoria piena in galleria in cattura non posso fare troppi video posso fare tanto di video ma dopo devo anche vederli editarli se serve e cancellarli perché se no ho la memoria troppo piena già è al 66% comunque ho provato gli incarichi di free game fortnite e la bagatura ok siamo qua per ancora un video per il 3 agosto il pacchetto leggende all'ambito di fortnite esce a novembre ok penso che sia da pagare però ragazzi novembre per chi fa le mie superiori vi consiglio di non shoppare la pass battaglia se avete ancora fortnite mi superiori non shoppate la pass battaglia non shoppate niente perché potete anche non giocare a fortnite io non giocherò forte perché c'è la scuola anche perché era la scuola ok comunque per chi è a scuola vi dico o per chi è a lavoro vi dico che se avete fortnite non giocate a fortnite se avete tempo giocate però anche se avete tempo un giorno alla settimana o un giorno al mese comunque non shoppate il pass battaglia perché verifica interrogazioni come me che vi spiegherò molto bene in un infotime a il primo settembre o il primo settembre informerò comunque dicimo progetti a sapore di menta arrivano il 2 novembre 2021 su fortnite con il pacchetto leggende alla menta 13.18.2021 dal team di fortnite sebbene sia stato e può iniziare a pensare a un look da sfoggiare durante la natalizia il 2 novembre 2021 arriva il pacchetto leggende alla menta di fortnite che include 10 nuovissimi oggetti e delle freschissime modifiche per 3 dei personaggi più amati dai fan i costumi includono aura fresca medici dentro il bottino rimarrà fresco come la prima volta bombardiere alla menta il futuro sembra luminoso oro schelimenta il caos alla menta è un'occasione rifrescante inoltre il pacchetto leggende alla menta include 3 freschissime dorossi decorativi tre piccoli appuntiti e una frizzante copertura per e per non farti mancare niente e con i mille di back inclusi puoi fare un po di shopping per completare il tuo nuovo look questo è che va occupato con i soldi reali dollari, euro, banconote ok, va occupato con i soldi reali dicevo, va occupato con i soldi reali il pacchetto leggende alla mente di fortnite fisico e quello che ci sa adesso escono allo stesso giorno chiede al tuo rivenditore di videogiochi preferito o acquisto il rivenditore su fortnite dicono acquistalo devo mettere gratuitamente acquisto gratuitamente perché è gratuito fortnite le copie fisiche sono disponibili per playstation 4 e playstation 5 le console xbox serie e nintendo switch mentre quelle che adesso saranno disponibili su qualsiasi piattaforma supporti fortnite non so se l'ho letto e non mi sono accorto oppure non c'è scritto perché non so che sono stati fisiche e digitali quindi tieni le ocche aperte per i nuovi dettagli presto in arrivo fino ad allora non perdere il sangue freddo perché io ragazzi sono un mammifero come esistono altri mammiferi ok perché esistono anche i cani mammiferi ok io anche se ok metà mammiferi umani metà mammiferi umani metà mammiferi animali sono sangue freddo io sono sangue freddo veramente a caldo in estate ok niente è finito come sempre ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto il canale non lasciate un bel piacere commentate e condividete e iscrivetevi al canale attivate la campanina commentate il po' se si può mi raccomando seguitemi su Instagram chiocela cd17-yt-officiale enti ragazzi ufficiale al vostro cd 17 è tutto bene ragazzi ciao